Marina Graziani nasce nel 1977 ad Imperia. Oggi è uno dei volti di QVC, ma la sua carriera televisiva iniziò con Ho visto le stelle, trampolino di lancio per diventare velina di striccia la notizia, da cui è uscita molto snodata. Il suo obiettivo? Essere sempre in buona, anzi ottima forma. Segue un'alimentazione sana, anche se si concede qualche sgarro, e cura il suo corpo permettendosi addirittura dei bagni d'oro. Ha aperto un blog, My Passion Fit, dedicato alle ragazze che mirano a raggiungere la sua bellezza seguendo i suoi consigli di fitness. È amante di biloxing, jogging e competizioni come la Sahara Marathon, ma riesce anche a ritagliarci dai momenti di relax praticando yoga. Grazie a questi esercizi si mantiene in forma e sempre in sintonia con il proprio corpo, protagonista di molte sue foto postate sui social, da cui si può notare la sua passione indelebile per i tatuaggi. Commovente è la sua vita sentimentale. Il suo cane Zoe è il suo complice perfetto di coccole e relaxa. Insomma, molto meglio di un marito.